Un quarto d'ora è conoscere una categoria di tutta l'altra Buono, 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 buono Dai Minta, bravo Dai, se Dai, dai, dai Vai, Sergio Vai, Sergio Oh, che faccia Eh, no Vai, Sergio Fuori, fuori, fuori col piede Dai, 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 che va fuori Dai, dai, che va fuori Che che va fuori Categoria maschile 65 kg Dai, dai, dai Massa Edica Pina Giacomo Alla 1 A seguire categoria maschile 60 kg E poi Vai, Sergio Dai, dai, che va fuori Vai, Sergio Grazie. Grazie.